Ciao bimbi, ciao bimbe, sono io, come non mi conoscete? Sono il cugino di Lucazzo, mi chiamo Lucazzone, si 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 come state? Ah mio cugino, mio cugino, mio cugino ha rotto i marroni, ora ci sto io qua Mi terrò compagnia tutti i giorni qui su Radio Gazzebo, buongiorno a tutti, questo è il Dancing Day Time e io sono un bel bambino Quanti anni ho? Ebbene ovvio quattro, mi chiamo Lucazzone, perché io sono nato un secondo prima di mio cugino E quindi sono decisamente più grande e quindi sono Lucazzone, se no ero Lucazzo anch'io E starò qua a tenermi compagnia, mi fa molto piacere, saluto tutti gli amici che mi ascoltano Ciao amici, saluto anche tutti gli amici che stanno scrivendo su Facebook, anzi, datemi il benvenuto Dai scrivete, ciao Lucazzone, come stai? Mi sta bene? E poi anche tutti quelli che mi guardano su YouTube, ciao 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 E anche quelli che mi comprono su iTunes, eh? Sono Lucazzone E non so cosa dire, però piano piano qualcosa lo troverò, sicuro Stai male, stai male, stai male